Si viene permanente dinanzi al municipio di Gera per rivendicare i diritti degli animali e dei loro proprietari e protestare contro l'assoluta inefficienza della politica che ostacola l'attività indispensabile del volontariato. Uno stand informativo è stato allestito dai volontari della Lida. Lo scopo è quello di far capire cosa si deve fare per legge per poter contrastare il randaggismo diffuso e chi omette di applicarla. Fra i problemi da affrontare ci sono i continui abbandoni, maltrattamenti, mancanza di sterilizzazioni, nessun'area dedicata, completa assenza di strategie, danno erariale per una spesa annuale di oltre 700.000 euro che aumenta sempre di più. Siamo qui stamattina davanti al Comune affinché l'amministrazione ci osservi e ascolti le nostre proteste, le proteste dei cittadini gelesi e degli animalisti gelesi. Noi vogliamo che il Comune costruisca il canile comunale come è previsto dalle leggi nazionali e regionali e che inizi immediatamente le sterilizzazioni, che questo ping pong tra ASP e Comune dia luogo finalmente all'apertura del centro di sterilizzazione perché i cittadini sanno benissimo che il randaggismo oramai ha raggiunto dei picchi troppo alti e non riusciamo più a sostenere questo peso. Noi associazioni da sole non siamo aiutati dal Comune, non siamo aiutati dalle istituzioni in nessun modo. Anche per il centro di petterapia stiamo chiedendo che fine abbia fatto perché il Comune ha speso 900.000 euro per ristrutturare questi immobili siti nell'ex mattatoio comunale e da un anno e mezzo sappiamo che i lavori sono stati conclusi ma il centro è chiuso. Noi abbiamo formato degli operatori, potremmo dare dei posti di lavoro, anche il canile comunale darebbe posti di lavoro per cui invece di regalare questi 750.000 euro all'anno ai canili privati di Caltanissetta sarebbe opportuno costruire la Gela, dare un servizio ai gelesi, arginare il fenomeno del randaggismo finalmente in modo adeguato e quindi diventare una città vivibile e civile.